Siamo a Ciampino per parlare di bowling con Annalisa Balzano. Ciao Annalisa. Ciao a tutti. Cominciamo dalla tua passione per il bowling. Come è nata e come sei arrivato soprattutto a far diventare il bowling uno sport a livello agonistico? Sì, è nato come nasce di solito tra noi giocatori. Con gli amici vai a fare una partita, magari ti appassioni un po' di più, vedi qualcuno che gioca in modo un po' più tecnico rispetto a te e cominci ad incuriosirti. Nel caso mio è stato così. Praticamente ho conosciuto dei giocatori a Napoli che giocavano a bowling a livello agonistico. Mi hanno un po' seguita e mi hanno indirizzata verso questo sport. Ormai sono 17 anni che lo pratico. Quali sono le caratteristiche fisiche e le caratteristiche mentali che servono per diventare un giocatore di bowling e come si sviluppano? Le caratteristiche fisiche sono abbastanza elastiche. Abbraccia un target di età che va dai 12 anni, sempre a livello agonistico, ai 99, come dico io. Ci sono anche delle fasce di giocatori che vanno dai juniores ai senior. Quindi superati i 60 anni si entra in una fascia agonistica dedicata anche a quel tipo di campionato. Quindi si può giocare veramente a tutte le età. Ovviamente il bowling agonistico fatto in un certo livello necessita di preparazione sia fisica che mentale con stretching pre-gioco, pre-allenamento, con posturali esercizi che ci vengono fatti eseguire dai nostri CT. Quindi sicuramente una condizione mentale di concentrazione, perché il bowling non sembra ma è anche al 50% concentrazione. Quindi l'ideale sarebbe chiudere i problemi fuori dalla porta e dedicarsi a questo sport. E comunque una preparazione atletica e alimentare. Quando si arriva a dei livelli anche di agonistici importanti, tipo nazionali, europei, come per fortuna è successo anche a me, bisogna seguire dei veri e propri training dedicati. Che cosa andate a valutare durante una competizione in termini di pista o di bocce o di location? Allora, per fortuna quando siamo in prossimità di un campionato vengono resi pubblici sia i condizionamenti, cioè il tipo di olio e la quantità di olio che viene messa sulle piste in quel bowling per quella competizione. Quindi ci si può allenare su quel tipo di oliatura, condizionamento e scegliere ovviamente l'arsenale, il parco bocce adatto per affrontare quel tipo di competizione. Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti e dove può venire un ragazzo che vuole imparare a giocare a bowling, non per semplice divertimento ma per affrontarlo come sport a livello agonistico? Allora, io mi alleno qui al bowling di Ciampino. C'è la possibilità di poter prendere anche delle lezioni con un nostro istruttore, che si chiama Enrico Maddaloni, che è un giocatore di bowling bravissimo e fa lezione sia a persone che prendono in mano per la prima volta una boccia da bowling che a giocatori come me che hanno bisogno magari di correggere qualche difetto e mettersi in competizione per eventuali gare che ci sono in prossimità. Allora, per tutti quelli che vogliono provare a giocare a bowling, l'appuntamento è qui a Ciampino, noi ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti.